Aldo e Alessia di Uomini e Donne, nuovo gesto damore della Cammarota Alessia Cammarota nuovo tatuaggio, a chi lo ha dedicato?. La storia damore tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri va a gonfie vele. I due si sono conosciuti grazie al trono classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo mesi dall'inizio della loro relazione la coppia ha pronunciato il fatidico sì. Nel 2015 è nato il loro primo genito, Niccolò, ma tra loro le cose non sono sempre andate bene. Eppure il loro grande amore è riuscito a riconciliarli, lo scorso ottobre è nato il loro secondo figlio, Leonardo. L'ex tronista di Uomini e Donne in passato ha tradito Alessia, aveva anche detto di non amarla più. . Durante il periodo di lontananza, la Cammarota aveva dedicato un tatuaggio al figlio, sul braccio si era fatta tatuare una mamma che tiene per mano un bimbo. . Nelle ultime ore ha rifatto lo stesso tatuaggio, stavolta però i protagonisti sono Aldo e il secondo figlio. Alessia Cammarota posta la foto del tatuaggio su Instagram. . Alessia Cammarota ha condiviso con i suoi fan il gesto d'amore verso il marito e il figlio, postando la foto del tatuaggio sul suo profilo Instagram. . L'ex corteggiatrici di Uomini e Donne ha aggiunto la seguente didascalia allo scatto, Mancavano gli altri due pezzi del mio cuore. . Alessia non si è mai arresa quando Aldo l'ha lasciata, alla fine il loro amore ha avuto la meglio e i due vivono felici insieme ai loro meravigliosi figli. .